Ciao a tutti e benvenuto a questo aggiornamento non previsto per quanto riguarda il Natural Gas. Un'ora in avanti potrà accadere che faccia analisi al di fuori della mia abituale lista di analisi gratuite su strumenti che stanno generando un qualcosa di interessante. Il Gas, andando a riprendere un attimo dal time frame daily, che è quello che normalmente lavoriamo, l'abbiamo detto, il 7 di gennaio ha generato una previsione allucinante come perfezione e abbiamo avuto un crollo molto importante per quanto riguarda il gas del 26,85%. Ma ciò che è importante da guardare oggi è che si è finalmente venuto a formare il setup per entrare al mercato. La conferma del ribasso l'abbiamo avuta con il retest, ovviamente, del livello di supporto di 2,98$, scusate, ma guardavo la data invece del prezzo, che si è venuto a verificare l'11 gennaio del 2024. Il mercato ha rotto il livello, ha rotto la trendline ciclica molto importante, ha ritestato il livello ed è partita la fase ribassista. Il prossimo minimo importante per quanto riguarda un ciclo da 80 giorni è previsto per la data del 26 di febbraio, quindi molto molto in là con il tempo, ma ovviamente adesso non abbiamo opportunità per poter nuovamente entrare al mercato, dovremo attendere uno storm. Andiamo un po' a ipotizzare un target, che è ciò che credo che vi importerà di più, per liquidare gli short, attendere un ritracciamento per un eventuale ingresso nuovo al mercato. Prima di darvelo, chiaramente, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, mettere un like all'analisi e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato. E ti invito anche a prendere visione del mio sito internet, il tradingpertutti.com, che così come la mia esperienza di trading è attivo dal 2007, quindi stiamo parlando di un sito che inizia a essere vecchiotto da un punto di vista di web. Iscrivete al mio canale Telegram, mi raccomando, ogni giorno riceverai le due analisi multi-day che faccio quotidianamente su YouTube e anche setup operativi, gli stessi setup che do sul canale in abbonamento dei segnali, però là do anche il segnale d'ingresso. In questo caso, se c'è modo, do anche però un setup operativo sul canale gratuito. Cosa vuol dire setup operativo? Vuol dire che indico l'orario, lo strumento e la direzione che andremo a prendere se si verificherà il segnale. Chiaramente ciò lo faccio solo se sul canale a pagamento ho almeno tre setup da poter dare agli iscritti, poi se ci saranno dei segnali fornirò anche naturalmente il segnale. Allora in quel caso andrò a condividerlo anche sul gruppo gratuito. Se stai cercando un servizio di segnali in 3D sui futures, sei nel posto giusto, segnali sul DAX, NASDAQ, S&P, Dow Jones, Gold e Petroglio. Questi sono i risultati in corso del mese di gennaio, li possiamo vedere qua. 3 punti sul DAX, 50 punti sul NASDAQ, 76 punti sul Dow Jones, 16 punti sull'S&P 500, 198 punti sul Gold, ossia 9,8 dollari di movimento e ahimè un mini stop sul petrolio, 45 punti, ossia 50 centesimi di movimento. I risultati in termini economici li puoi vedere qui, questa è una prop da 50.000 euro, i trade sono stati portati al mercato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operazioni in 15 giorni, anzi in 20 giorni quasi, quindi un'operatività molto tranquilla, se non c'è il segnale perfetto non si entra al mercato e quindi stiamo parlando di 8 trade in profitto su 9 e questo è l'ammontare 2.495,78 euro. Il servizio segnali funziona in questo modo, prima do tutti i vari setup, ok? Quindi al mattino, andiamo un po' se ce n'è uno al mattino. Beh, non lo è andato troppo in alto, comunque o al mattino o al pomeriggio, dipende quando si forma un setup, lo vado a condividere con il gruppo, quindi come potete vedere intorno alle 16 potrebbe formarsi un setup long inviato alle 13, stessa cosa riguarda per le S&P e il DAX, poi se ci sono le opportunità allora arriva poi anche la comunicazione, dopo i vari setup arriva la comunicazione con un alert di possibile ingresso long o short con lo stop loss da inserire in termini, questo qui è il petrolio di dollari ovviamente, e poi l'eventuale ingresso al mercato diretto, qui non era 10 dollari, era un dollaro, non aveva anche scritto sbagliato. Poi durante chiaramente il trade c'è tutta la gestione, in questo caso ho chiuso il trade in anticipo, ho dato prima l'avviso di pronti a una possibile chiusura anticipata del trade e poi ho comunicato la chiusura spiegando poi il motivo, il mercato ha rotto il livello di supporto che era stata una resistenza importante, ho atteso che generasse un qualcosa su questo livello che non c'è stato, ho chiuso l'operazione con metà stop loss esatta, sì ho scritto 10 punti ma era un punto di stop loss, cioè un dollaro di stop loss, non 10 porca miseria, ho proprio scritto una stupidaggine, non ne sono accorto direttore adesso. Quindi i segnali sono molto precisi e molto facili da leggere. Tornando al sito ti invito ad iscriverti al servizio segnali, 49 euro al mese e se invece vuoi imparare a lavorare con il mio metodo iscriviti al gruppo Volta e avrai accesso all'indicatore, al canale Telegram di supporto e naturalmente anche ai video formativi che però dovrai utilizzare esattamente come vi spiego e quindi farai poche operazioni, poche operazioni ma con una percentuale di operazioni in profitto che lo vedi tu è intorno all'80 barra 85%, quindi veramente ma veramente altissimo. Tornando alla nostra analisi cerchiamo di identificare un'eventuale area di target che vado ad identificare in maniera molto semplice, quindi io prendo semplicemente l'ultimo swing e lo vado a proiettare. Direi che un target per quanto riguarda il gas potrebbe essere l'area di 2.372, dovrebbe esserci su... frecce, esatto, prezzo di destra, quindi andiamo a posizionare il target, eccolo qua, 2.35$, secondo me è il target dove l'operatività andrà liquidata, anche se già adesso siamo su un importante livello, io lì andrei a liquidare l'operatività e mi sembra che coincida esattamente con questo bel minimo, questo tra tutti è sicuramente il primo minimo importante che il mercato ha avuto, quindi qui ti guiderai tutto, attenderei a questo punto un nuovo ritracciamento del mercato per poter entrare ancora una volta al ribasso, un ritracciamento che sarebbe bello vedere più o meno intorno a quest'area, intorno all'hard di 2.73.2. Con questo direi che è tutto, ti auguro una buona domenica sera e ci aggiorniamo domani con le prossime analisi e con la nuova settimana operativa. Ciao ciao!